salve a tutti e benvenuti in un nuovo video ASMR oggi oggi vi farò vedere cosa c'è nel mio telefonino cominciamo subito con il video video allora per prima cosa accendiamo il telefono come potete vedere la marca del telefono è pronti 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 e l'ho acceso e si è subito diciamo acceso senza bloccarsi quindi un telefono anche abbastanza veloce e ora vediamo cosa contiene nel suo menu allora qui troviamo la rubrica la rubrica telefonica rubrica telefonica telefonica ed impostazioni impostazioni vediamo la ricerca veloce la ricerca veloce dove mi permette di trovare velocemente un contatto qui ho solamente due contatti 118 e poi la team poi qua posso aggiungere un numero e qua mi fa scegliere dove mettere il contatto dove salvare il contatto o nel telefono o in una scheda sd che non ho non ce l'ho attualmente poi qui mi fa eliminare i contatti mi permette di eliminare dei contatti da telefono oppure anche da una scheda sd poi gruppi di chiamate amici famiglia vip affari e altri e infine le impostazioni le impostazioni dove mi fa vedere lo stato della memoria del telefono del telefono del telefono ora torniamo indietro indietro accanto all'obbligato l'elefonica possiamo trovare il registro di chiamate chiamate perse chiamate effettuate chiamate ricevute elimina registri chiamate il timer delle chiamate e il conteggio sms che si può anche conteggiare i messaggi inviati poi tornando indietro troviamo l'organizer accanto al registro delle chiamate l'organizer dove possiamo trovare il bluetooth 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 qui mi permette di accendere o spegnere il bluetooth ora l'ho disattivato di nuovo poi richiesta dispositivo audio penso penso che sia per collegare delle cuffie bluetooth ma potrei sbagliarmi poi attivo dispositivi poi qui il mio dispositivo impostazioni e informazioni poi qui troviamo la sveglia calendario devo ancora impostare il calendario del telefono del telefono poi qui c'è la calcolatrice se calcolatrice poi tornando indietro abbiamo l'orologio mondiale qui qui insomma mi fa vedere la mappa del mondo dove ci sono anche i orari in questi paesi qua poi attività e torcia ecco ecco la torcia del telefono chiamo spegniamo la torcia torniamo indietro poi qua abbiamo i multimedia qui troviamo la fotocamera poi videocamera abbiamo anche visualizzatore di immagini qui attualmente non ho niente lettore audio lettore video registratore audio 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 e la radio poi tornando indietro ok spegniamo la radio e poi qui troviamo messaggi scrivi messaggi messaggi in arrivo messaggi in uscite bozze modelli e impostazioni messaggi accanto ai messaggi troviamo l'elenco dei file qui mi fa vedere le cartelle presenti all'interno del telefono 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 e anche lo spazio disponibile lo spazio disponibile e spazio totale che può contenere la memoria del telefono telefono poi qua abbiamo il corso della sim qui passa tempo vabbè ci sono i giochi corso corso di off uno questo è l'unico gioco che ha il telefono bene ok ok Poi impostazioni gioco, audio spento oppure acceso Poi troviamo qua le impostazioni Impostazioni, impostazioni Dove c'è il profilo dell'utente Generale, silenzioso, riunioni all'aperto Configurazione telefono dove mi indica l'orario e data Accensione e spegnimento automatico La lingua e metodo di scrittura preferito Preferito, 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 preferito Poi torniamo indietro Qua troviamo le impostazioni del display Sfondo, salva schermo, immagini in accensione In spegnimento, mostra, date orario, luminosità, retroilluminazione, LGT Blocco tastiera, automatico Poi abbiamo anche l'impostazione dual sim Perché il telefono, oltre a contenere una sim e una scheda SD Può contenere anche un'altra sim Qui abbiamo appunto l'impostazione delle due sim Poi modalità aereo E infine sicurezza Blocco del telefono Blocco tastiera automatico E poi cambia password E poi qua c'è la ripristina in posizione di fabbrica E questo insomma è il menu del Di questo telefono E poi vabbè qua Tornando indietro Qua possiamo trovare subito la rubrica Che permette anche di contattare immediatamente Magari un contatto Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E che vi sia stato utile In caso voleste acquistare anche voi questo telefono Per oggi è questo Per oggi è tutto E spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video video